Occhio ragazzi che se Bitcoin fa il break del livello di inesistenza fa un flash pump in questo caso, oh mio Dio era caduto. Bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video ovviamente con il mio Bitcoin Gold qui perché oggi festeggiamo il breakout dei 45-46.000 dollari avvenuto esattamente quando ci interessava, avvenuto esattamente nei modi in cui abbiamo descritto nella precedente settimana ragazzi cioè con il flash pump di Bitcoin classico ovviamente abbastanza scontato nei momenti in cui il mercato va a breccare un livello di resistenza così importante. Una bellissima reazione quella di Bitcoin che ci porta ad avere delle conferme abbastanza rilevanti per quanto riguarda l'analisi ciclica dei mercati e l'analisi tecnica dei mercati. La conferma principale è quella della fase del nuovo ciclo semestrale, fase che stiamo attendendo da qualche mesetto più o meno e che sembrerebbe proprio essere iniziata sul minimo di gennaio anche se la sorellina minore di BTC, cioè ITER, Ethereum indica un po' una view leggermente diversa quindi il ciclo semestrale potrebbe essere di nuovo a cavallo tra gennaio e i primi di marzo quindi gennaio e fine febbraio e potrebbe in qualche modo diciamo sfasare anche i calcoli futuri un po' come il ciclo annuale di BTC iniziato lo scorso giugno-luglio del 2021. Poi c'è un rimbalzo veramente importante anche della Total Market Cap della DeFi che però si avvicina ad una area veramente importante di resistenza ve la faccio vedere in questo video e soprattutto in questo video vi mostro anche l'area di possibile arrivo di target di Bitcoin per il ciclo semestrale 2022, un target accettabile che può fare tranquillamente e da lì in poi veramente alla cieca andremo poi a spanne ragazzi perché dovremmo poi vedere una serie di cose anche come si vanno a concatenare soprattutto la questione di magari adoption di BTC a mo' di valuta per la questione del scambio del petrolio nel settore della Russia è tutto l'ambaradamba in questione ma c'è anche un neo che potrebbe innescare una leggera fase di dump proprio nei prossimi giorni. Allora oggi è un super video ovviamente perché andiamo a fare il punto della situazione quindi mettetevi comodi, vi alzatevi, mettete seduti belli comodi e andiamo ai grafici ragazzi allora qui vediamo se riesco a darvi uno zoom migliore, eccolo qui allora questo è il grafico classico che stiamo andando a studiare ormai da inizio dell'anno vi faccio vedere subito il grafico di BTC perché volevo parlarvi intanto della questione del semestrale e praticamente ormai è certo che da con il breakout avvenuto qui siamo su un nuovo ciclo semestrale in teoria Bitcoin ha iniziato il nuovo ciclo semestrale in questa zona qui ragazzi come ho già spiegato 164 miliardi di volte i cicli semestrali sono metà di un ciclo annuale e il ciclo annuale di Bitcoin è iniziato a luglio-giugno del 2021 finirà probabilmente agosto-settembre del 2022 quindi è quella la fase che dovremmo tenere molto sott'occhio a capire più o meno come siamo messi e soprattutto se Bitcoin reggerà allora questo è il punto di inizio una fase ciclica è come il giorno e la notte qualcuno di voi mi ha fatto questa domanda nei commenti di YouTube ragazzi scrivetemi nei commenti se avete dubbi o qualcosa perché io poi magari durante i prossimi video vi riesco a spiegare qualcosina allora un ciclo ha questa forma come il giorno e la notte 24 ore sale poi scende ed è un'analisi che prende in considerazione le fasi quindi fase di enfasi, fase di down va bene ragazzi quindi da un certo punto di vista nelle fasi di alziste dei cicli noi siamo tutti ben disposti verso il mercato i mercati salgono per una serie di questioni magari prendono delle news in maniera positiva ci sono dei flussi insomma salgono perché emotivamente sono più nel giorno diciamo così nelle fasi negativi invece del ciclo i mercati prendono un po' tutto storto un po' come quando diciamo abbiamo la luna storta e quindi ogni cosa tende sostanzialmente a far scendere i mercati allora i cicli poi esistono o esistono ragazzi insomma questo poi dipende da una serie di fattori ovviamente tutto nel nostro sistema solare ciclico quindi insomma questo poi sta a voi cercare di comprendere la natura delle cose e la biologia insomma sono analisi di natura un po' particolare allora questa struttura da qui in poi evidenzia l'inizio di un nuovo ciclo semestrale se dovesse essere un ciclo semestrale simmetrico al precedente ciclo semestrale che è stato questo da qui a qui in pratica dovremmo avere una struttura fatta in questo modo ora una struttura ciclo semestrale in questo modo sarebbe un ciclo simmetrico identico al precedente non credo che sarà così in questo caso ma poi svilupperemo magari una serie di analisi successivamente ovviamente allora abbiamo la conferma ufficiale perché perché abbiamo avuto un mensile al rialzo che è questo qui di gennaio febbraio questo è un ciclo mensile da 30 giorni al rialzo poi però c'è da questo punto in poi uno sfasamento ciclico ragazzi perché da una parte abbiamo un mercato che ha fatto questo movimento qui ok vi faccio vedere ecco da qui a qui di struttura 18 giorni intra range quindi range poi da qui poi è salito quindi in realtà siccome i cicli sostanzialmente durano 30 giorni più o meno quelli mensili in linea di massima abbiamo il problema che questo ciclo in sostanza è stata anomala vedete perché invece di andare a chiudermi qui andate a farmi l'app col breakout non è anomalo per me perché vi assicuro che spesso i mercati lo fanno tant'è però che in academy da più di una settimana io ho avvertito più volte e spesso anche tutti i trader che erano in short dicendogli attenzione a quello che fate perché il mercato vi batosta se continuate ad andare contro trend in quanto c'erano una serie di segnali che ci portavano all'idea che il mercato potesse raggiungere anche i 48-48.500 ragazzi entro pochi giorni manca un pochino adesso oggi siamo arrivati a 47.7 siamo lì ragazzi quindi il target più o meno che ce l'avevamo prefissati per marzo lo possiamo definire più o meno raggiunto manca un punto o due punti percentuali ma a questo punto l'analisi ciclica ci porta a considerare questo ciclo mensile o anomalo quindi di natura ternare adesso vi faccio vedere come si interpreta oppure lungo che significa che nelle prossime giornate potrebbe esserci una fase negativa anche perché Nasdaq 100 è vicino ad un livello che potrebbe essere molto difficile da andare a battere e andiamo a vedere anche questa fase negativa allora ragazzi intanto vi faccio vedere se il ciclo iniziato lo scorso 24 di febbraio è un ciclo mensile ternario significa che in pratica fa dei cicli intorno ai 20 giorni per poi andare a chiudere tutta la struttura a fine mese di aprile più o meno e quindi in questo caso abbiamo una struttura classica ternaria che è fatta in questo modo cioè l'unione di due cicli mensili sotto forma di un ciclo a tre punte quindi fatto così la classica montagna che voi vedete spesso nei grafici allora questa struttura è quella che io al momento prediligo per quanto riguarda bitcoin e quindi l'idea che siamo vicini a una struttura ternaria è che quindi la metà di questa di questi 60 giorni non c'è mai stata o meglio ha una fase di up invece che di down è un classico ciclo ternario ragazzi in analisi ciclica funziona così in pratica dovremmo avere un 20 giorni a struttura in questo caso abbiamo avuto 18 i cicli centrali solitamente sono un pochettino più lunghetti e questa dovrebbe essere in teoria la forma di questo mensile bimensile quindi due mesi unito fatto in questo modo che sarà il nostro nuovo approccio per i prossimi giorni dopo aver avuto la conferma di questo break quindi siamo in questa fase ma esiste anche la possibilità perché questa è una fase ternaria in teoria ragazzi ci dice che al di là di questa clause qui che dovrebbe essere a cavallo della prima decada di aprile poi si continua in teoria a salire fino alla clause di questo bimensile che magari potrebbe essere un po' più duretta come struttura quindi questa è una view che in pratica è rialzista ragazzi e ci potrebbe portare a dei livelli verso aprile che sono quelli che vi mostro verso la fine del video perché vi devo far vedere prima la fase negativa quindi l'ipotesi negativa ma questa cosa che vi dicevo potrebbe essere anche smorzata da questa questione qui cioè il fatto che questo mensile non sia in natura ternaria quindi non siano due mensili insieme ma sia un mensile molto lungo quindi intorno ai 38-40 giorni e ci porta ci porti diciamo da qui in poi a una fase di ribasso quindi questo breakout sarebbe un breakout non fake perché in realtà è stato chiuso sopra confermato anche oggi però che potrebbe avere le gambe corte che quindi una fase di correzione fatta così potrebbe essere alle porte questa è una view che secondo me la dobbiamo prendere in considerazione a meno che domani dopo domani bitcoin non va a 50k ve lo dico proprio in maniera chiara perché secondo me in questo caso anche a livello di analisi tecnica ci può stare in quanto possiamo avere il cosiddetto pullback di un livello di resistenza molto importante immagino una cosa del genere quindi un rientro e un test dai 46-45 cosa interessantissima se la fa nei primi giorni del mese di aprile per una questione che non vi svelo ma che i quelli dell'academy che sono qui in questo momento che stanno vedendo sanno già perché noi abbiamo già programmato tutto il mese di aprile ma ve la dico ovviamente man mano ragazzi anche perché è impossibile spiegarvela qui questa view leggermente negativa che ci fa ragionare e dire forse se non raggiungiamo subito i 50 possiamo andare poi in close di questa fase e fare un pullback sui 45 quindi una fase con un meno 8 alle porte in pratica potrebbe essere confermata anche da questa view sul Nasdaq perché il Nasdaq 100 ha un livello di resistenza imminente stra importante cioè la media mobile a 26 settimane scusate della della sua struttura ciclica questa qui ragazzi questa è la media mobile che fa da spartiacque nel medio periodo per il trend ribassisti rialzisti di Nasdaq 100 questa media mobile in questo caso funge da resistenza e siamo lì ragazzi guardate questo livello praticamente è stato in sostanza raggiunto quasi da Nasdaq questo potrebbe significare che in questa settimana cioè questo grafico settimanale non è un daily quindi noi dobbiamo guardare la singola candela potremmo avere il tentativo di test di questa media e poi appunto la fine settimana e la prossima qualcosa di negativo quindi una candelona rossa questa view si sposa con la questione che forse nei prossimi giorni potremmo anche vedere BTC in fase calante e questa secondo me la fase l'ipotesi peggiore che possiamo dobbiamo proteggere resta il fatto che da un punto di vista di posizionamento di medio periodo siamo long perché abbiamo girato il trend di breve periodo long ragazzi perché con il break che è avvenuto qui siamo in analisi tecnica con il break che è avvenuto di questo livello adesso siamo in un trend con massimi e minimi crescenti quindi il trend di breve di bitcoin è ritornato long quello di medio è rimasto in barra di congestione che è quello che vedete qui quello di lungo periodo ma che ve lo dica fa quello di lungo periodo è stralong vabbè ogni tanto succedono delle cose strane su questa tastiera stream deck allora ragazzi bene ma 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 se siamo in trend long da un punto di vista di breve è possibile che ci sia un alt season nelle prossime settimane è possibile che le cripto in questione le altcoin più forti diano una botta a bitcoin e quindi ci serve analizzare per questa cosa chi di voi ha 36 secondi per scriverlo nei commenti per vedere se c'è un alt season dobbiamo andare ad analizzare la market cap della DeFi ethereum e la dominance di bitcoin andiamo primo grafico il più importante secondo me è ethereum contro btc ragazzi vi faccio vedere l'analisi ciclica di questo grafico che non è importante è stra importante andare ad analizzare per cercare di comprendere i pesi le forze relative fra altcoin e bitcoin perché è vero che alcune altcoin hanno corso anche singolarmente abbiamo visto rune capolavoro delle nostre analisi degli ultimi mesi ragazzi sto facendo percentuali abnormi su rune perché ero a leva ho raggiunto il 2300% non ho mai fatto percentuali del genere nella mia vita ovviamente non è un iper cioè non ho investito tantissimo però ovviamente il 2300 è una bella cifra vabbè allora scherzi a parte su questa questione la il grafico eth btc fa da spartiacco quindi noi andando a guardare la ciclica l'analisi tecnica su questo grafico cerchiamo anche di comprendere se ci può essere un altcoin perché se eth spinge ragazzi l'altcoin ci sarà e su quest non ci piove anche perché molte cripto non vedono l'ora di fare questa cosa quindi c'è proprio un atteggiamento del genere vi faccio vedere che questo grafico ha una struttura ciclica molto favorevole anche a un'eventuale fase di spinta nelle prossime settimane proprio di ethereum contro btc perché la struttura ciclica di ethereum contro btc sembrerebbe alla fine di una ciclo annuale di bitcoin di ethereum contro bitcoin perché questo ciclo annuale è iniziato qui 460 giorni molto lunghi questi cicli così delle criptovalute alcuni dicono che siano due annuali io ne chiamo uno per non confondere ovviamente anche perché non cambia niente quindi diciamo non serve più di tanto la dicitura allora questa è una struttura vedete in questo modo poi questa è una seconda struttura che indicherebbe che in questa fase c'è quasi sicuramente non lo possiamo dire diciamo che con molta probabilità ci potrebbe essere la fase di chiusura di un ciclo annuale di ethereum da qui in poi ethereum potrebbe iniziare una fase di ripresa questo è il vero livello di resistenza che vi avevo indicato ben 8 mesi fa ragazzi quando vi ho detto ethereum raggiunta questa fase si posizionerà tra 0.08 e 0.055 per vedere non so dove sta quel video ragazzi comunque e da lì poi ha fatto ping pong in questa fase ma attenzione perché ha fatto probabilmente una chiusura annuale molto blanda questo è anche indicativo della forza della regina delle cripto che potrebbe nel prossimo ciclo annuale tentare il tutto per tutto facendo una cosa del genere se dovesse fare una cosa del genere nelle prossime settimane intanto ci sono delle questioni che devono entrare in sincrono perché non va a cavallo questa view con l'inizio del nuovo con la fine del nuovo ciclo annuale di btc non ci va molto a cavallo ragazzi quindi dovremmo andare un po' a comprendere come andrà però se fa un atteggiamento del genere l'out season è assicurata c'è da dire ragazzi che poi abbiamo un problemino che è qui e qui dovremmo mettere quel famoso dangerous ding 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 perché questa è un punto chiave luglio 2023 va bene ragazzi e lo so è tantissimo tempo però attenzione ok vabbè vi ho fatto solo vedere un'idea generale di quello che potrebbe capitare cioè una fase spostata oppure una super forza di bitcoin contro tyrion non è detto che tyrion crolli ma semplicemente che bitcoin potrebbe essere straforte quindi una nuova burranna l'anno prossimo che è proprio quello che noi ci aspettiamo tutto sta lì nell'incatenarsi di questi meccanismi che vi ho fatto vedere sembravo quello dei simpson ragazzi ve lo ricordate burns va bene allora questo è la e anche questo grafico secondo me è molto rilevante quindi al season ragazzi io attendo poco poco perché deve breccarmi questo livello della media mobile la blu che in questo caso è data a 21 questi sono settimane ci può stare userei meglio una 26 ma vi faccio vedere la differenza perché per questo vi ho detto ci può stare ma poi mi dite Mauro ma sei impreciso ecco la differenza praticamente il nulla perché ragazzi su questo tipo di oscillazione non conta poi in quanto la media mobile ha sei mesi di questo grafico è flat quindi è bloccata in sostanza deve andare a breccare questo livello di prezzo e deve portarsi sopra in questa zona qui quindi dovrà avere almeno uno 0,078 confermato in close settimanale per indicare che quasi sicuramente poi qui è iniziato una nuova struttura ciclica se Ethereum fa questa cosa io sovrappeserò Ethereum rispetto a BTC e lo so perché non è un mass da dire però in questo caso lo sovrappeso rispetto al mio solito quindi io solitamente ho una percentuale del suo ETH negli ultimi due anni più importante rispetto a quelle di che avevo di solito adesso probabilmente lo lo sovrappeserò allora andiamo a vedere poi un'altra cosa eccolo qui il grafico con la questione legata alla total market cap della DeFi per vedere sempre un ulteriore conferma della questione della alt season si alt season no la total market cap della DeFi ha fatto la sua struttura intanto questa la stiamo vedendo sulla linea vi metto le candele così magari vi trovate più a vostro agio ha fatto il break delle due mediamobili ora la questione è per riprendere un trend rialzista anche qui ha chiuso al quasi sicuramente nella zona di di gennaio ma ha lasciato l'ha fatta a febbraio vedete ancora una volta questa struttura ma non è irrilevante ragazzi e questa è la zona di chiusura del semestrale quindi qui ha chiuso il semestrale e tenterà probabilmente un nuovo massimo questa view si va a sposare con la questione legata alla possibile al season da i primi di aprile in poi dopo quella fase che vi ho detto che potrebbe essere negativa quindi intorno al 6-7 di aprile se questa cosa avviene però lo scoglio principale della total market di telefi è questa zona di prezzo qui questa zona 165 billion e 155 billion quindi ci siamo già arrivati sotto questa è la seconda zona superata questa zona qui ho usato i fibonacci per fare questi livelli superata questa zona di 165 billion secondo me tenterà un nuovo massimo storico io ve lo dico quindi in questo caso la total market cap della DeFi verrà guidata dalle top 10 della DeFi che sono in classifica Ethereum in primis poi c'è Luna Matic eventualmente anche Phantom se riprende BNB Kronos quest cripto dovranno spingere un pochetto e fare da Pump a AVAX per esempio ragazzi tutte quelle che sono in quella zona lì che si occupano di DeFi in pratica che rientrano in questa total market cap della DeFi potrebbero performare molto bene non so se meglio o peggio di Bitcoin perché bisognerebbe fare un grafico a spread si dice così quindi a verificare quei grafici rispetto a Bitcoin non mi interessano e questo era la domanda fate attenzione ai 165 billion di questo grafico che trovate su TradingView questo è un grafico che potrebbe indicarci ancora una volta se raggiunto quel livello che l'alt season c'è allora vi ho fatto vedere tutti quelli che sono i punti da tenere sotto stretta osservazione per questa settimana perché io fra qualche giorno me ne vado a Miami con il cartello cripto per fare poi la Bitcoin conference ragazzi qui saremo in volo non sarà possibile aggiornarvi in tempo anche per il Puso ma noi faremo il possibile perché probabilmente andrò a scrivere aggiornamenti sugli altri miei canali ragazzi tra i quali useremo Telegram e Twitter per le analisi ed eventuali annunci se vi devo fare un video veloce di qualcosa che sta succedendo che duri un minuto o due minuti quindi Telegram e Twitter gratis ovviamente tutti e due i canali li trovate in descrizione aggiungetevi invece per seguire eventuali diciamo giri e blog sul nostro viaggio userò Instagram anche questo ve lo lascio in descrizione quindi le storie di Instagram per quello ragazzi quindi avremmo comunque il contatto ci terremo sempre in contatto penso anche in ogni caso di programmare dei video YouTube sempre presenti poi non so ragazzi se riesco perché devo capire se riesco a trovare un posto dove andare a registrare e qualche analisi è da fare ovviamente dipende anche da BTC speriamo di arrivare proprio in prossimità della Bitcoin conferenza di Miami con BTC boom 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 che fa i botti così festeggiamo insieme al presidente di El Salvador a Michael Saylor e a Company va bene ragazzi allora fatemi sapere quello che pensate voi se avete delle idee generali e soprattutto quale critto della DeFi se queste cose si vanno a intersecare nel modo giusto spingerà di più secondo voi vediamo un po' cosa pensate buttate giù nei commenti poi magari andiamo a focalizzare proprio un'analisi attenta ciclica e tecnica su quelle critto che sono più gettonate proprio dalla community ciao a tutti buon inizio settimana a tutti